PEGI 18 Si è spento il computer, ho avuto un problema con l'alimentatore, infatti l'ho sistemato momentaneamente, nel frattempo ne ho ordinato un altro su Amazon, però vabbè, quello è un altro problema Quindi, quella parte del vino è andata perduta, però non disperatevi perché tanto avevo fatto una cagata mostruosa, cioè no, cioè sì, cioè è andato un pochino avanti, niente di che insomma, vabbè, lo rifaccio per voi Allora, vi spiego cosa si deve fare in questo episodio Ecco, dobbiamo arrivare a quella famosissima stanza, soltanto che le scale sono sigillate, perciò bisogna passare da delle finestre, insomma Allora Oh, e la Scusa, scusa, stavo scherzando Ehm, control Ok, questo non mi ricordo se l'ho fatto nel video, oppure, cioè nel video che avete visto voi, l'ultimo puntato che è uscito, oppure se è quello che poi non ha funzionato Però, vabbè, lo rifaccio, ogni caso non lo devo fare Allora, scollego le casse, poi mi posso nascondere qui, purtroppo so già tutto, mi dispiace un po' perché, insomma, vi rovino la sorpresa, la rovino anche a me Adesso dovrebbe uscire qualcuno dalla porta Ehi Cosa è che disturba il mio flusso di energia? Oddio, non macco Ah, è quello che scriveva canzoni, tipo una cosa del genere Aspetta che sono messo a male con la sedia Olè Allora Eccolo qui Allora, non voglio ucciderti, sappilo Scusa, però, eri un po' in mezzo ai coglioni Occulta questa merda, sento che arriva qualcuno Ehm Ma ne è un cadavere Ok, non mi ricordo come si fa Boom, 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 li ho uccisi tutti e tre Olè Allora, vediamo qui, allora C'è qualcun altro? No, tanto noi mi hanno scoperto Oh, cazzo Allora, sì Arrambicati Ehm No, aspetta, aspetta, aspetta Mi sa che non posso farlo Allora Come ho già detto non mi ricordo se è in questa puntata oppure nella scorsa Però Ehm C'erano delle cose E infatti non potevo fare Non potevo utilizzare il checkpoint Ah, sì, invece sì Ok, niente, ho cancellato tutto quello che ho detto Ehm Dove è la finestra? Sporgenza Allora Allora, mi avete chiesto anche di essere un po' stealth Sì, grazie Lo sarò un giorno Ma adesso sono ancora troppo un esperto Dovrebbe chiamarsi qualcuno da finestra Sì, lo sei brutto Ho soggettuto Però non è colpa mia, ve lo giuro Cioè, non l'ho fatta posta Oh, fuck Non mi ha visto, spero Ecco 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 Facciamo che l'altre passo Buongiorno Scendi Ma il mio obiettivo dov'è esattamente? Oh, dove sto andando? Non lo so Per il finissimo Ah, per passare l'altra finestra Epico Questo non lo sapevo L'altra volta infatti ci ho messo un casino A A trovare un modo per andare La fine li ho uccisi e basta Allora, non è una buona idea Posso prendere la pistola? Sì, ma sono un tisgamo Metti a posto la pistola Grazie Ok Ehm Beh, sì Cioè, direi io Oltre passo a questa merda Oddio Allora, devo essere Merda, c'è qualcuno? L'ho visto? Oltre passo a questa merda Olè Allora, fammi vedere Sì, c'è stato quel tipo Là e poi Ok, adesso No, ho sbagliato tasto Merda Arrampicati Cou, 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 cou Eh Non è stata una buona idea In effetti Prendi la pistola per favore Oh, cazzo Sono morto Ricarica? Posso rubare la pistola? Ehm... Sì, F Vediamo... Ah, è uguale, vaffanculo Non lo so Vai a fankulo a testa di cazzo Ehm... Fuck, sono morto, sono morto No! No, c'era un coso... Va, fankulo Ok, come vedete lo stealth non è uno dei miei pregi Ma ce la farò prima o poi Allora, come posso fare? Allora, parliamone Parliamone Quella finestra è praticamente presidiata da coglioni Quindi... Ma che cos'è? E se li uccidessi già da qui? Allora, per un po' Eh? Ok, uno è tolto Olè Poi Poi, poi, poi Facciamo così Andiamo a vedere gli altri Ok E facciamo un bel... Prendi la pistola Non la prendi Eccomi qua, scusate Dicevo... No, ormai è passato qui Ah, oltrepassiamo Eccolo lì Oltrepassa Prendi la pistola Ok, vediamo se posso puntarlo da qui Oh, sì che posso Oh, fuck, si è rispostato Allora, vediamo un po' Voglio uccidere direttamente la finestra Ma non capiscono da dove arriva E quindi non mi possono... Eccolo Fa un culo Posso usarla soltanto quando sono qui davanti Dai! Ok Ora, loro come fanno a sapere che è venuta da qui? Non lo possono sapere, no? Non possono sapere che sono dietro la finestra È una cosa strana, no? La domanda è Posso sparare da qui? Voglio quel fucile Quel bellissimo fucile lo voglio Travestimento saltato Mi hanno visto? Non mi puoi prendere, bastardello Dai Dai, vicinati Oh, c'ho una... Ok, allora, aspetta Dove cacchio arrivano sti colpi? Devo muovere il culo Ho capito Oltrepassa... Ole E oltrepassiamo anche questo Oh, ciao cario Carissimo amico Prendi questo cazzo di pistola Eh, sì Allora, allora, allora Merda Ma che cacchio di visuale Ricercato Oh, sono spariti tutti Porca miseria Eh Ciao 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 Vieni qua Sì 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 Ciao Che epica questa roba Mi piace troppo Boom Boom Sono morti tutti Ce n'è ancora qualcuno È pieno in realtà Allora, ricarichiamo sta pistoletta In realtà non so neanche qual è il mio obiettivo Cioè dove devo andare Però dettagli C'è qualcuno Boom Boom Scusa Ti ho mancato prima Ok Quindi direi che adesso posso anche arrampicarmi E correre verso l'obiettivo Che non so ancora qual è Dice che c'è una porta qui Tipo qui Ok Merda muovi il culo Muoviti Muoviti Eh Grazie Ok ora Oh fuck C'è qualcuno Oh cazzo Ho bisogno di un punto di gas alternativo Ti pareva Che what the f Ah ok Diciamo Ma questa non è la porta Sbircia in sicurezza Wow Wow Bastardi Quella ragazzina Wow perché va così lento What the fuck Ah Wow Ce l'ha fatta Va bene io sono Spiegeramutato Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Iscrivetevi Condividete Mi trovate sempre su twitter Google plus O sul mio sito Spiegeramutato.ml O su facebook Digitando facebook.com Spiegeramutato Officiale Io sono Spiegeramutato Ci vediamo nel prossimo video Qui sul mio canale Ciao